E il succo delle olive, l'olive è un albero sacro, e l'olio, frutto delle olive triturate, servì per l'uomo, per illuminare la notte, per condire il cibo, per consacrare un genere di olio, sia gli arredi sacri, sia i sacerdoti, e per uso medicinale, perché nell'olio si scioglievano gli elementi che si trovavano nelle erbe e serviva come base per qualunque medicina. L'olio serviva anche come cosmetico, per profumare. Ecco i diversi usi dell'olio, elemento importantissimo nella vita, soprattutto degli antichi, quando non c'era la luce elettrica, quando non c'era il petrolio, quando l'unica fonte di illuminazione e l'unica maniera per l'unica di dolori, la regente e l'olio. Noi dovremmo, nella liturgia dell'olio, contemplare questi diversi usi dell'olio, ma per brevità noi fissiamo lo sguardo sull'olio che serve per lungere gli ammalati e che viene usato. Ricordiamo sempre questa nostra consacrazione, siamo dei giunti del Signore, dei Cristi del Signore e dobbiamo vivere la nostra consacrazione. L'olio serve per condire i cibi. Nelle scritture le focacce che venivano offerte al Tempio dovevano essere unte di olio e con sparsi di sale. Nell'uso domestico l'olio era sempre un elemento benedetto, ma soprattutto l'olio, come noi lo vogliamo così considerare questa sera, è l'olio per guarire le ferite, sia le ferite del corpo sia le ferite dell'anima. Il sabato santo, meglio il giovedì santo, il Vescovo benedice l'olio per gli infermi. Noi ricordiamo quest'olio e come il buon samaritano che unge di olio l'infermo che trova a metà strada, così anche noi ungiamo con l'olio gli infermi e l'olio della carità, l'olio dell'amore. Questa sera celebriamo così l'immagine pedagogica del samaritano e chiediamo al Signore la guarigione dalle nostre ferite, dalle nostre malattie, dalle nostre infermità. Però prima benederemo quest'olio, immetteremo nell'olio due, anzi tre elementi profumati, perché l'olio profumato è il segno del nostro amore a Dio. Olio profumato è il tuo nome, cantava la sposa dei cantici, per questo le fanciulle ti seguono. Non venga mai meno l'olio sul tuo capo, è un testo di coeletto e traveste siera bianca. Ci viene ricordato da Paolo che noi siamo il profumo di Cristo. Cristo è il profumo, dobbiamo profumare di Cristo. Profumo di vita per i credenti, profumo di morte, annunce di morte per i non credenti. E per rimetterci in questa dinamica dell'olio noi leggiamo alcuni testi. Poi benederemo l'olio e ci introdurremo nella immagine del samaritano che incontra l'uomo in mezzo alla strada tra Gerusalemme e Gerico, scende da cavallo e unge di olio quel povero infermo. Poi Gesù dice va e fa tu lo stesso. E allora ricapitolando tutti questi usi, noi fissiamo l'attenzione sull'olio per gli infermi che guarisce le malattie dell'anima e del corpo. Leggiamo qualche testo dei libri santi. Leggiamo innanzitutto Luca e la donna che è ferita nel cuore. essa ha commesso tanti peccati. Unge di olio profumato i piedi del Signore. Questo profumo riempie tutta la casa. Gesù guarisce dai suoi peccati la maddalena. è un olio che ci ricorda il profumo dell'amore. L'amore profumato dalla maddalena. L'amore ancora più profumato di Cristo Signore. È un olio che guarisce. Mentre la maddalena profuma i piedi del Signore Gesù guarisce il cuore della maddalena. Leggiamo. Luca 7 36 50 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città. Saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. E fermatesi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. Se costui fosse un profeta saprebbe chi è quella donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse, Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli, maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo quello a cui l'ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non hai mai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha amato molto. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse alla donna, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fete ti ha salvata, va in pace. E' interessante fissare questa immagine. C'è olio, perdono, amore. La mandalena riceve il perdono completo dei suoi molti peccati, perché è molto amato. Dio non guarda né la moltitudine né la qualità dei peccati. Guarda l'amore, perché l'amore distrugge. è chiaro che quest'amore in Maria e Maddalena fu dono di Di Cristo. La Maddalena non poteva avvicinarsi a Gesù se prima Gesù non avesse toccato il cuore. Questa sera noi chiediamo al Signore di perdonarci i nostri peccati. Però il Signore vuole che noi rompiamo il vaso nell'olio ai suoi piedi. Rompiamo il cuore ai suoi piedi. Gesù è nel tuo fratello, nella tua sorella. Se vuoi guarire dalle tue ferite interiori, se vuoi guarire dai tuoi peccati, versi su Gesù, presente nel fratello e nella sorella, l'odio del tuo amore. È il veicolo migliore per la tua guarigione interiore, per la guarigione del cuore e anche per la guarigione di tutte le ferite che tu hai contratto nel lungo viaggio della vita. Maria di Maddalena aveva tante ferite, tanti peccati. Sette demoni erano usciti da lei. Era abbeverata dal peccato, posseduto dal peccato e dai demoni, ma ricevetti il dono dell'amore. E l'amore coprì una moltitudine di peccato, come dice la scrittura. Fratello, sorella, se tu hai peccato nella vita, anche che tu avessi peccato più della Maddalena, anche che i tuoi peccati fossero gravi più di quella della Maddalena. Questa sera sei invitato a prendere l'odio che il buon Dio ti dà, l'odio dell'amore. E unge i piedi del Maestro. Col perdono guarirai dai tuoi peccati e dalle tue infermità. Ma Gesù ti invita a versare l'odio sul tuo fratello, l'odio del tamore, a dare il perdono a Gesù presente nel fratello. Se tu hai astio nel cuore, odia per il fratello. Se il tuo fratello ti ha fatto del male, se il tuo fratello ha peccato contro di te, versa l'odio ai piedi del fratello e guarirai tu, gli attererai sul fratello la benedizione di Dio. Signore Gesù, tu sei presente in ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle. Io sono la Maddalena. Sono ferita nel cuore, sono ferita nello spirito, sono ferita anche nel corpo. O Gesù presente nel mio fratello, nella mia sorella. Io verso l'odio del perdono su fratello e sulla sorella. Ravviso te nel fratello e nella sorella. Amo te nel fratello della sorella. Accetto il sacrificio del mio olio. Perdonami i peccati, guariscimi da tutte le malattie. E perdona anche attraverso quest'olio che io verso al mio fratello la guarigione e il perdono. Perché anche lui, come me, è peccatore e peccatrice davanti a te. Questa sera, Signore, questa sala si è profumata di olio. L'olio del perdono vicendevole, dell'amore vicendevole. Avvinti tutti nel peccato, perché tutti siamo peccatori. Infermi tutti, perché tutti abbiamo contratto, le malattie, nel cammino, terreno, tutti vogliamo essere guariti dal tuo amore. Accendi nel nostro cuore l'amore e mentre versiamo l'odio, la tua guarigione scenda su di noi. Signore Gesù, tu hai comandato ai tuoi discepoli di ungere di olio gli infermi, ma tu stesso, nella parabola del buon samaritano, aiuto di olio, l'uomo, capitato là, lungo la strada. hai dato un comando, va e anche tu fa lo stesso. È il comando tuo, Signore, che noi vogliamo eseguire nel nostro ministero. Fermarci sul fratello, piegare le ginocchia, caricarlo su di noi e aiutare te, l'unico che guarisce, a curare e a portare al termine la guarigione del fratello. Ti chiediamo, Gesù, che i nostri gruppi siano l'albergo dove il buon samaritano portò quell'infermo e diede all'albergatore i due denari perché si prendesse cura dell'infermo fino al suo ritorno. Ti chiediamo, Signore Gesù, che il nostro ministero di guarigione sia un ministero secondo il tuo cuore e che noi usiamo come te l'olio e le fasce e il vino. noi che abbiamo ricevuto da te i due carismi, i due denari. O Gesù, vogliamo visualizzare per essere buon samaritano, riflettendo sulla parabola che tu hai letto. Un dottore della legge si alzò per metterla alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù rispose, hai detto bene, fa questo e vivrai. Ma quegli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù, ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre dall'altra parte. Anche una vita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le verite, versando olio e vino. Poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò alla locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e gli diede all'albergatore dicendo, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? E il dottore rispose, che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, bene, va e anche tu fa lo stesso. Vogliamo meditare brevemente su questa parabola fondamentale nel ministero di guarigione che Gesù esercita e che continua a esercitare nella Chiesa attraverso i suoi ministri e attraverso noi, a cui è dato il comando, va e fa tutto lo stesso. La parabola si innesta nell'amore. Gesù vuole spiegare in che cosa consiste l'amore. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo. Chi è il tuo prossimo? E' il fratello che ti sta accanto, che ha bisogno di te. E' l'uomo. Non importa se sia un uomo lontano o vicino. Non importa perché ogni uomo è figlio di Dio. Ecco un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, dalla città di Dio alla città degli uomini, Gerico. Incappa nei tre cavalieri dell'Apocalisse che lo buttano per terra. E' interessante questa sequela di verbi che ci dà il Vangelo. Cosa fecero? Lo spogliarono, lo percossero, lo lasciarono. L'uomo è stato percorso, buttato per terra nella mente, nel cuore e nel corpo. E' stato spogliato di quel vestito che aveva uscendo da Gerusalemme, la città santa. E' stato spogliato dei doni. E' stato lasciato solo in mezzo alla strada. E' ferito, spogliato, solo. Non può darsi aiuto. passi il sacerdote, ma il sacerdote non ha cuore. Il sacerdote è impegnato nel culto di Dio. La Santesta e il suo cuore sono nel culto da rendere, forse un culto esteriore. Non ha tempo di occuparsi del ferito dell'uomo. Succede anche questo. Non ci curiamo noi che crediamo di vendere l'amore a Dio. Noi, uomini di preghiera, noi, uomini del culto, non ci curiamo dell'uomo. Dell'uomo della strada, che chiede aiuto perché ci dobbiamo occupare di Dio. Ma Gesù dice lascia il tempio, lascia il culto, occupati di quell'uomo che lungo il cammino. Quell'uomo ha più importanza per te nel canto e nel culto. Ha bisogno di essere salvato. ma questa cerdote passa oltre, dice dall'altra parte, si scosta, non viene neanche avvicinarsi, teme di sporcarsi, teme di contrarre l'impurità sacra toccando con l'embo della leste un malato. Lui è il santo e si sporca toccando il ferito, toccando il sangue sparso, non può imbrattarsi perché è di Dio, ipocrita, dirà Gesù. Comunque passa oltre, non ha compassione. compassione e la vita, anche la vita è occupata nel servizio degli altri, in tutti i servizi della vita sacra e civile. Vedi quell'uomo ma anche lo minano a cuore e passa oltre, lo attendi servizio, ma si è murerato. E passa lo straniero, un samaritano, un uomo diverso, quell'uomo disceso dal cielo che si chiama Gesù. Lui ha il cuore, lui ha l'amore, ma il sacerdoto non ha l'amore, mille vite non ha l'amore e non si ferma perché c'è l'amore che ferma. Come nella scena della Maddalena il gioco è tutto nell'amore, anche qui tutto il gioco è nell'amore perché l'amore è tutto. Se hai amore bene, se non hai amore non vale nulla, non sei un uomo. ricordate che Gesù disse questo a proposito dell'amore del prossimo. Chi è il mio prossimo? La parabola è legata all'amore. disse Maritana ha l'amore, ha il cuore e si ferma, ecco, fermarsi davanti a quell'uomo, poco importa se è fratello, se è straniero, è uomo, fatta di immagine di Dio, messinata ad essere somiglianti a Dio in un cammino che va dall'immagine alla somiglianza. Il Dio lo ha percorso in quel uomo sia tu qualunque uomo. I tre cavalieri dell'Apocalisse, quelli del bianco-nero, bianco, cioè del cavallo nero, del cavallo ghiacciato del cavallo rosso, ti hanno assalito e tu sei lì. Mi è venuto il cavaliere sul cavallo bianco.